Avete scritto la vostra prima canzone, l'avete registrata, suonata, cantata, l'avete mixata, avete fatto il mastering del vostro primo singolo, siete super gasati e adesso la volete pubblicare su tutti gli store come Spotify, Apple Music, Deezer eccetera eccetera, ma non sapete dove partire. Bene, oggi vediamo tutto quanto, vi spiego come fare, vi faccio vedere alcuni servizi che ho provato, i migliori, uno dal quale dovete stare assolutamente alla larga e vediamo di fare un po' chiarezza, dopo la sigla. Oh ragazzi, bentornati ad un nuovo video, mi sembra passata una vita dall'ultimo perché sono successe diecimila cose nell'ultima settimana ho iniziato a lavorare presso una nuova azienda, una super mega azienda gigante, per ora non vi racconto niente e poi magari in futuro se non mi faccio licenziare vi racconto tutto. Sto comprando una macchina, ho dovuto muovermi in anticipo visto i tempi di consegna che ci sono sì, è stata una settimana da incubo, sono veramente cotto, però come vi accennavo prima della sigla oggi voglio chiarire alcuni dubbi sul pubblicare la musica online e mostrarvi quelli che sono i miei servizi preferiti quelli che ho provato nel tempo e uno che ho provato dal quale dovete stare veramente alla larga. Prima di continuare vi invito al volo ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella perché ho notato che youtube ultimamente sta facendo i suoi esperimenti pazzi e le notifiche arrivano o non arrivano ho visto un calo drastico delle visualizzazioni quindi attivare la campanella fa sì che voi sappiate sempre quando ci sia un nuovo video ed inoltre vi invito a dare un'occhiata alla nuova promozione di BuddyBank che vi permette di ottenere 40 euro gratis solo aprendo il conto, inserendo il codice che trovate in descrizione mi raccomando e di fare fino a 240 euro invitando fino a 6 nuovi amici, capite che con 240 euro ci potete creare il vostro primo home studio ci ho fatto un video qui dove la spiego bene so che la sto spingendo molto, so che ne sto parlando molto però questo qui sarà lo sponsor del prossimo mese e a proposto vi ricordo è valida fino ai primi di gennaio quindi avete un mese trovate tutto in descrizione ma andiamo avanti partiamo con il chiarire quelli che sono alcuni dubbi e domande che mi arrivano molto spesso riguardo al rilasciare la propria musica sugli store domanda 1, quella che arriva sempre Mario, devo iscrivermi alla CIA per poter pubblicare un mio pezzo? no, assolutamente no sono due cose diverse oggi parliamo di servizi di distribuzione la CIA si occupa di tutelare il vostro diritto d'autore ovvero qualcuno suona la vostra canzone in un live qualcuno copia la vostra canzone qualcuno vi ruba il beat della canzone e così via ci sono tantissime cose io non sono un esperto di diritto d'autore sarebbe interessante fare una live con un avvocato un legale che si occupi prettamente di quello però no, nessuno vi vieta di pubblicare le vostre canzoni senza essere registrati in CIA e senza aver depositato i vostri pezzi anzi, anzi, vi dirò credo che ad oggi la CIA se avete meno di 30 anni sia gratuita però nel caso ci sia un costo è una cosa che vi consiglio anche di evitare perché soprattutto se siete agli inizi credete veramente che qualcuno sarà interessato a rubare le vostre canzoni? soprattutto all'inizio all'inizio farete sicuramente canzoni di merda le mie prime canzoni erano orribili le ho cancellate bruttissime scritte male registrate male mixate male ma in questo caso conta solo lo scritte male chi mai vorrebbe rubare le mie canzoni? e poi questo è un pensiero che ho preso da Francesco Di Riperiani che però è una grande verità non è anche lì che ci sia il diritto d'autore su questa cosa nel 2021-22 se qualcuno vi ruba una canzone in 5 secondi voi l'avete sputtanato su Facebook e quello lì ci fa una grandissima figura di merda oltre ad aver fatto una grandissima pubblicità al pezzo che vi aveva fregato quindi soprattutto se siete all'inizio non vedo il senso dell'iscrizione alla CIA seconda domanda se io sono iscritto alla CIA è la CIA che si occupa di pubblicare i miei pezzi su Apple Music Spotify eccetera no assolutamente no la CIA non distribuisce la CIA colleziona diritti ok quindi no non pubblica i vostri pezzi terzo punto posso pubblicare le mie cover su Spotify Apple Music eccetera nì dipende potete però dovete procurarvi una licenza si chiamano licenze meccaniche non so cosa ci sia di meccanico e semplicemente il servizio che scegliete adesso ne vediamo alcuni si occuperà di pagare l'autore della canzone al posto vostro ma passiamo a vedere quelli che sono i servizi partiamo da TuneCore che è stata veramente la delusione delle delusioni uno schifo ve lo sconsiglio caldamente allora loro mettono in prima pagina questa cosa del cover licensing del fatto che loro licenzino automaticamente le vostre cover io ho iniziato con TuneCore che era gratuito era in fase di lancio diceva pubblichiamo le tue cover gratuitamente non devi pagare nessuna licenza bene fantastico ci ho provato la mia canzone non è mai arrivata su nessuno store il servizio inesistente mi hanno risposto una volta dicendomi no ci vorrà circa una settimana non hanno mai pubblicato niente di mio adesso è diventato a pagamento non so se la cosa sia cambiata però io nel dubbio ve lo sconsiglio semplicemente perché ci ho avuto una brutta esperienza ci siamo tolti dalle scatole quello terribile passiamo a qualcosa di un po' più carino sound drop ho usato sound drop per parecchio tempo vi posso dire così i pro e i contro subito quando ho iniziato ad utilizzarlo era gratuito nel senso che voi potevate pubblicare le vostre canzoni inedite originali gratuitamente nessuno vi diceva niente non dovevate pagare assolutamente nulla se volevate pubblicare le cover dovevate pagare una licenza che costava tipo 10 o 20 dollari non mi ricordo precisamente una roba del genere comunque da qualche mese a questa parte hanno rivoluzionato un po' il tutto e nel senso che l'iscrizione è comunque gratuita non c'è una fia annuale come per altri servizi però la cosa positiva qual è? che voi vogliate pubblicare un inedito oppure una cover il prezzo sarà sempre di 99 centesimi quindi super abbordabile e se fate cover su youtube questo qui è il servizio che vi consiglio perché tutti gli altri siti hanno prezzi molto ma molto più alti per pubblicare le cover proprio per questo motivo io non ho mai cancellato il mio account qui sopra anche se adesso uso un altro servizio proprio perché semmai dovesse aver bisogno di pubblicare una cover come ho fatto per esempio con l'album delle cover che ho registrato durante la pandemia so che pagherò soltanto 99 centesimi a canzone che credetemi è ottimo anche per gli inediti voi magari fate una canzone all'anno è inutile spendere 10-20-30 euro per un abbonamento a un altro servizio spendete solo quell'euro e avete fatto lato negativo di questa cosa è che avete veramente veramente poco supporto i pezzi arrivano sugli store matematicamente in ritardo sappiatelo io mi prendevo anche un mese di anticipo quando pubblicavo sia una canzone mia che una cover statisticamente si prendevano sempre quella settimana quelle due settimane di ritardo e non la trovo una cosa molto professionale perché se mi dai una data io poi quella data la riferisco al mio audience grande o piccolo che sia e mi stai facendo un po' un danno quindi questo qui il difetto principale poi per il resto le statistiche ci sono sono scarse non sapete mai in real time quanto state vendendo dove state vendendo tutto un po' così campato per aria quindi bello per mettere la vostra musica online un po' meno se dovete gestire il back end della situazione tenete conto che non vi dà la possibilità di caricare i testi delle vostre canzone e di metterli in sync con le vostre canzoni quindi e non vi dà la possibilità di pubblicare master in alta qualità per Tidal eccetera eccetera e soprattutto non vi dà la possibilità di pubblicare i brani in Dolby Atmos ovvero di fornire una versione in Dolby Atmos dei vostri brani e questo qua potrebbe essere un po' una fregatura per il futuro è proprio questo io adesso non ho ancora brani pubblicati in Atmos però mi sono spostato su Distrokid Distrokid è il servizio un po' più costoso ma neanche tanto però è quello che vi dà assolutamente tutto veramente di tutto e di più intanto partiamo dai prezzi l'abbonamento base parte da 19,99 potete pubblicare album e canzoni singoli illimitati assolutamente sono 19,99 all'anno potete distribuire le cover chiaramente loro si prendono oltre a quei 19,90 all'anno una licenza che se non sbaglio è di 9,99 vi pagano quindi vi parano le chiappe nel momento in cui qualcuno usa la vostra canzone in un proprio video su youtube cosa che nessuno degli altri servizi fa c'è la stessa cosa chiaramente per instagram se qualcuno usa la vostra canzone nelle stories eccetera eccetera vi danno la possibilità di gestire la vostra pagina di apple music e spotify attenzione cosa non da poco spotify ve lo fa fare con apple music è molto più difficile loro vi danno accesso alle statistiche alle vendite potete cambiare l'immagine del profilo dell'artista in spotify apple music tutta quella roba lì che è molto comodo vi danno la possibilità di caricare i testi delle vostre canzoni di sincronizzarli alla musica che questa era una cosa fondamentale che io volevo da tempo vi danno la possibilità di avere una pagina ufficiale d'artista su youtube che non ho idea di che cosa sia sinceramente indagherò e vi danno la possibilità di fare il presave su spotify che è anche una cosa molto carina parlando di presave sarebbero inutili se la vostra canzone non andasse online in tempo ecco una cosa super figa loro vi mandano le canzoni online sugli store almeno spotify apple music in 24 48 ore ragazzi 24 48 ore è rapidissimo credetemi è rapidissimo con sound drop in meno di un mese non andava online nulla ma veramente nulla vi poteva andare di culo ok ma di culo in due settimane vi caricavano il brano mi è successo una volta su 10 rendetevi conto questi qua 24 48 ore davvero 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 tanta roba vedete questo è il mio singolo che ho pubblicato per testare un po' il servizio e vedete su quanti store è andato online cioè il 90% io non li conosco ok c'è spotify c'è questo che cosa è snapchat c'è apple music c'è tiktok c'è instagram c'è youtube music e tutti gli altri iheart radio non ho idea di che cosa sia non l'ascolto c'è tidal vedete mi dice la mia canzone mi dice che la mia cover ok mi dice che ho sincronizzato il testo veramente veramente figo vi beccate chiaramente il 100% dei vostri guadagni pagando 19,90 all'anno vi da questa è simpatica la possibilità di crearvi il nome di un'etichetta discografica personalizzata ho messo m&m records gioco di parole mario montenero stupida becera però si è molto carino e penso che sarà quello che userò sempre per il futuro nel momento in cui volete passare a un piano superiore ci sono musician plus a 35 dollari all'anno che ho utilizzato ma semplicemente perché mi avevano dato uno sconto e c'è il label dove potete gestire 5 artisti lo vedo un po' inutile per un indipendente a meno che non abbiate altri amici che fanno musica o non avete uno studio di registrazione volete improvvisarvi anche etichetta discografica però la vedo un po' forzata per gli indipendenti anche perché sono 80 dollari l'anno tantino va bene ragazzi spero di aver chiarito qualche dubbio spero di avervi dato qualche spunto utile vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto vi è stato utile controllate la promo di buddy bank in descrizione per avere 40 euro gratis inserendo il codice amico che trovate sempre in descrizione fatemi sapere se siete già affiliati a qualche servizio va facciamo così facciamo un po' di promo per tutti se avete pubblicato delle canzoni su apple music spotify eccetera eccetera lasciate il link nei commenti in descrizione non li blocco così magari chi passa può ascoltarvi può farsi un giro e magari ci aiutiamo a vicenda e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao